Da una parte una missione di colpa sull'ARPAB, dall'altra la decisione di dare mandato agli uffici legali per costituirsi parte civile. Nella sua relazione introduttiva in Consiglio regionale in merito all'inchiesta sul petrolio, il governatore Pittella ha spaziato su più fronti tutto questo, mentre nel frattempo Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle gli hanno ufficialmente sventolato sotto il naso una mozione di sfiducia. La mozione inizialmente avversata da Mollica, che però nel corso del suo intervento ha lasciato intendere di volerla sostenere. Non te la firmo, ha detto a Napoli, ma te la voto. Le parole usate da Pittella, infatti, in apertura dei lavori, non lo avrebbero convinto in pieno. Io sono sempre stato contrario al petrolio, ha rimarcato Mollica. Questi dunque i risvolti principali di una giornata molto lunga. Nel suo intervento Pittella ha ripreso alcuni argomenti già ampiamente toccati, il giorno precedente a Roma, nel corso della direzione nazionale del PD. Ma ha anche aggiunto, a proposito dell'ARPAB, per quel che ci riguarda abbiamo cambiato i vertici per ben due volte in questo primo scorcio di legislatura. Comprendo bene che nella percezione dei cittadini non c'è fiducia in generale in alcune istituzioni. L'ARPAB ha precisato, probabilmente non ha raggiunto quel grado di efficienza che tutti ci aspettiamo, ma anche per questo abbiamo chiesto al Presidente Consiglio Renzi di predisporre una legge di riforma delle ARPA per renderle più efficienti e in grado di metterle in condizioni di effettuare i controlli senza limiti. Insomma, la soluzione al problema, secondo il Presidente, sarebbe quella di un'ARPA che operi e controlli senza preavvisi di sorta. Nessuna discussione invece sulla mozione di sfiducia presentata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Se ne parlerà il 19 aprile, data del prossimo Consiglio regionale, come specificato dal Vice Presidente del Consiglio Galante.